Il primo giorno di Scusi dottore, è adrenalina, c'hanno sparato addosso. Ma chi va sparato addosso? Lo sai bene, Gio, Mario Spadone. Molto piacere. Mario Spadone, avete l'ergastolo? Fine bene mai. Sei proprio sicuro di andare? Nei quartieri spagnoli. Le uniche condizioni che un uomo vero deve sempre rispettare sono le proprie e basta. I quartieri spagnoli sono un buon territorio mio. E vi ha dato fumare, eh? C'è il cartello. Non è figo che merda che la fa. Ma che è data fuori? Forza. Ma che è successo, Mario? Che succede? Mario sta male. Comandante, io le do tre ore per portare Mario Spadone qui. Mi sono spiegato adesso. E non dici se il ricovero d'urgenza? Di carcinomi non ne ha tre, ma quattro. Ma che stai fuori, papà? Vorresti ospitare un camorrista. Non avete mai avuto problemi con lui? Mai. È un paura dei figli neri. Ma vanno la stessa fine merda a me. Mario aveva molto a cuore il futuro dei suoi figli. Tu sei buono. Comandante, o maggiore Gustavo, li buttate all'infermeria.